Al momento sembra scomparsa nel nulla Antonello Surico, scappata sabato mattina dal reparto di ginecologia dall'ospedale di Polistena dopo le 8. La quarantenne originaria di Taranto vive a Galatro insieme al compagno e al nono mese di gravidanza. Grande la preoccupazione dei familiari che, avvisati dagli infermieri dell'ospedale, si sono immediatamente rivolte le forze dell'ordine presentando una denuncia di scomparsa. Un giallo tutto da chiarire, quello di Antonella, perché viene da chiedersi come possa essere accaduto che una paziente ricoverata al terzo piano dell'ospedale e in prossimità del parto venga persa di vista dal personale, medici, infermieri, ma anche ausiliari e inservienti. Al punto di allontanarsi, indisturbata non solo dal reparto, ma anche dall'edificio senza essere notata da nessuno, una donna che ieri doveva essere sottoposta ad un intervento di parto cesareo, si è cambiata indossando un giubbotto blu, jeans e scarpe da ginnastica bianche, si è fatta la valigia e si è allontanata volontariamente. Secondo una prima ricostruzione, è uscita da sola dall'ospedale camminando per un bel po' fino al territorio di Medicucco, e da lì che avrebbe fatto alcune chiamate con il suo cellulare nella sua famiglia è scattato subito l'allarme, è importante ritrovarla. Al più presto sostengono, visto il suo stato di salute, è il parto ormai imminente, ha urgente bisogno di essere assistita per garantire la sua incolumità e quella del suo bambino. I familiari di Antonella, alcuni dei quali in queste ore stanno giungendo da Taranto, la descrivono come una donna minuta, di fisico, alta circa un metro e sessantotto, con gli occhi azzurri e i capelli biondi tagliati molto corti, come si vede nell'unica foto che in queste ore sta circolando, ha un segno particolare, un neo sul labbro superiore. Nella mattinata di ieri, numerosi volontari, insieme ai agenti della polizia e dei carabinieri, hanno avviato battute nei territori di Polistana, Mericucco, Rosarno e nelle zone limitrofe. Ma della donna nessuna traccia, si sospetta che possa aver chiesto un passaggio a qualche automobilista che ignaro l'avrebbe accompagnata chissà dove. Chiunque avesse notizie della donna è invitato a rivolgersi immediatamente al commissariato della polizia di Polistana.